Nella mattinata del 22 luglio si è tenuto a Palazzo Cisterna un incontro organizzato dal gruppo consigliare Città di Città, dedicato al tema del rinnovo delle concessioni autostradali presenti sul territorio della città metropolitana di Torino. Ad oggi l'attiva società partecipata dalla città metropolitana con circa il 20% delle quote ha la gestione e l'esercizio delle autostrade Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, Ivrea-Santià e sistema autostradale tangenziale di Torino e della diramazione autostradale Torino-Pinerolo. La relativa concessione è scaduta nel 2016 ed il Ministero sta lavorando al bando di gara senza alcuna interlocuzione con la città metropolitana. Città metropolitana ha partecipato all'incontro di venerdì a Beinasco organizzato dal Presidente della Regione Piemonte-Cirio e anche oggi quello organizzato dal gruppo consigliare metropolitano Città di Città su un tema importante e caldo come la nostra temperatura ovvero il rinnovo dei bandi attiva CITAF, un bando unico, e la sopprezione dei caselli. Città metropolitana è presente a tutti questi incontri, non mancherà mai. Il tema è un tema che stiamo portando avanti dal 2017, ovvero da quando è stata approvata un ordine del giorno che riguardava tutte le esigenze e richieste dei territori, facciamo degli incontri col Ministero. A questo punto di vista Città metropolitana non può essere messa da parte e parteciperà a tutti gli incontri per tenere aggiornati i territori su quello che è l'evolversi di una richiesta che è stata fatta proprio per migliorare la mobilità in Piemonte. Nella sua relazione il consigliere Roberto Montà ha ribadito l'esigenza di riportare al centro della discussione l'importante argomento. Oggi abbiamo organizzato come lista Città di Città questa iniziativa coinvolgendo i sindaci della città metropolitana e le parti sociali perché il tema delle concessioni della tangenziale autostradale per noi sono un grande problema. Abbiamo votato nel dicembre 2017 un ordine del giorno in conferenza dei sindaci approvato all'unità dal Consiglio metropolitano dove chiedevamo che sostanzialmente la città metropolitana fosse protagonista nel dialogo insieme alla Regione con il Ministero per le future gare che sono prossime all'uscita. Ci sembra che purtroppo non sia accaduto nulla, ci sia grande distrazione e noi oggi proveremo a costruire una piattaforma di confronto con Regione e con Ministero per far sì che il nostro territorio non sia danneggiato, che la città metropolitana non perda risorse e che ci siano investimenti sulla mobilità di Torino e dell'area metropolitana. Grazie a tutti.